Walter Samuel è tornato e i compagni cedono il passo. Uno ad uno ha sbaragliato una concorrenza che se il muro sta bene non è in grado di sostenere certi livelli di competitività. Cattivo il giusto, tatticamente perfetto, il solo avversario di Samuel è il fisico logorato dalle battaglie. Non c'è Rolando che tenga, anche se il portoghese sta giocando molto bene e con la sua duttilità ha mantenuto il posto spostandosi a destra. Non c'è confronto con Campagnaro perché l'argentino ha abbassato sensibilmente il suo livello di rendimento ed è in grado di giocare solo da interno a destra o da esterno in una difesa a quattro. Non può competere Ranocchia perché semplicemente non è altrettanto forte. Ad oggi Walter Samuel vale tutti i punti che dividono l'Inter dal Napoli, persi per strada in confronti molto meno probanti rispetto alla trasferta del Franchi. Tornato titolare, The Wall ha garantito due prestazioni mostruose, una condita dal gol decisivo contro il Sassuolo. Nella rosa attuale non si può fare a meno di lui anche con la prospettiva di un addio a giugno, quando sarà urgente, se non prioritario rispetto ad ogni altro acquisto, trovare un sostituto adeguato. Le vittorie partono dalla difesa, è un assunto del campionato italiano e degli sport di squadra in generale. Per l'Inter ogni successo parte dalla salute di Samuel. Grazie. Grazie.